Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un argomento un po' noioso, ma sarò breve. L'argomento sono gli investimenti esteri, perché io sento tanto a parlare nei dibattiti televisivi e leggo che gli investimenti dell'estero sono un elemento positivo, un obiettivo che ogni governo dovrebbe favorire o ricercare, ma io non sono convinto, perché se guardiamo beh certamente diciamo l'investimento estero è un buon segno, vuol dire che l'economia dà fiducia, che qualcuno vede la possibilità di fare business e quindi tutto va bene. Dopo però se guardiamo ai flussi, a quello che succede, agli elementi che si aggiungono e si tolgono, abbiamo all'inizio che l'investitore mette il capitale iniziale, che questo quindi è un guadagno netto per lo Stato e con questo si creano posti di lavoro probabilmente. Questo ha a sua volta un'altra fonte di guadagno per lo Stato con le tasse. dopo ovviamente l'investitore si riporta a casa i soldi, tutto il guadagno, non è che l'investitore fa beneficenza. Quindi sicuramente fa una cosa positiva per l'economia del paese, perché crea posti di lavoro, fa girare i soldi, però comunque se fa l'investimento è perché vuole ottenere qualcosa, vuole averne un guadagno e questo è normale, non c'è niente di male su questo. Quello che dico però è il fatto che l'investimento sia estero, non è per sé una cosa positiva, cioè se a parità di ogni condizione, di tutte le altre variabili, l'investitore fosse un italiano, cioè uno del paese, uno del luogo diciamo, avremo tutti gli stessi vantaggi, non uno di meno, con il vantaggio in più che i soldi del guadagno restano nel paese. Se poi al posto dell'investitore ci mettiamo lo Stato, allora qui abbiamo un guadagno totale, nel senso che anche il ricavo netto che l'investitore, lo Stato in questo caso fa, va alla comunità, va allo Stato che può usarlo per comprare gli F35, quelli servono sempre, scherzo ovviamente, ma avete capito cosa voglio dire. E quindi, niente, il fatto che si dica che gli investimenti esteri sono positivi, gli investimenti sono positivi esteri non ne sono affatto convinto, perché poi comunque l'investitore estero non investe su un piccolo magazzino, fa generalmente un'impresa abbastanza grande. E quindi questo gli dà anche un certo potere contrattuale con lo Stato che non è detto che sia positivo. Specialmente, immaginate per esempio se ci fosse un investitore dalla Russia che apre un'azienda grandissima in Italia e l'Italia fa minacce di fare sanzioni contro la Russia, questo può minacciare di chiudere l'azienda o fare qualcosa per danneggiare lo Stato. Ha un potere di ricatto che un investitore italiano certamente avrebbe, anche lui, però almeno non si va fuori dai confini dello Stato con questo ricatto. E se invece l'investitore è lo Stato, allora non c'è proprio questo problema. Per cui secondo me se lo Stato avesse la possibilità di rimpiazzare un investitore straniero, di sostituirsi a un investitore straniero, questa sarebbe una cosa secondo me sempre sempre positiva. Questo è quello che volevo dirvi, non vi mostro il panorama perché è tutto grigio, la neve si sta sciogliendo, un po' bruttino, ma da domani dovrebbe tornare ancora al freddo, allora speriamo che venga un po' di neve fresca, allora sarà di nuovo tutto bianco. Vi saluto, ciao!